buongiorno roberta buongiorno benvenuta tra noi siamo molto emozionati ma anche felici di conoscerti io ho spiegato un po appunto il tema che è stato trattato in ambito di educazione alla cittadinanza è il tema della legalità vista come lotta alle mafie ma anche come contrasto ad un atteggiamento mafioso che potrebbe nascere in qualsiasi momento al di là delle organizzazioni criminali quindi abbiamo analizzato i personaggi di giovanni falcone di paolo borsellino con la speranza appunto che anche le nuove generazioni possano sentire l'importanza appunto che hanno avuto questi due personaggi nel percorso del della loro vita soprattutto il messaggio di speranza che ci è stato lasciato appunto dal dai due magistrati abbiamo letto anche varie frasi che penso possano essere un po il vangelo ecco da da tenere durante tutto la vita per evitare appunto che si possa cadere nella corruzione o comunque nel compromesso sociale io passerei la parola adesso alle mie colleghe che hanno anche collaborato alla realizzazione del del progetto e poi parleranno appunto il charone lunelli mattia laratta come rappresentanti della seconda p buongiorno roberta noi abbiamo trattato sempre nell'ambito dell'educazione civica la cittadinanza il tema dei collaboratori di giustizia il maxi processo e abbiamo visionato dei video di pietro grasso che è l'ex procuratore antimafia e che parlava della legalità e di buscetta e di tutti i collaboratori di giustizia e il contributo che hanno dato al ai magistrati e sì buongiorno roberta con i ragazzi quest'anno abbiamo letto il libro paolo borsellino parla i ragazzi di pietro grasso e mi è sembrato un libro semplice ed efficace che con dei capitoli molto brevi sono grazie ai quali i ragazzi insomma sono riusciti a vedere un po la storia sia dei di paolo borsellino che di giovanni falcone sia della mafia in sé ecco quindi successivamente con i ragazzi in piccoli gruppi hanno realizzato delle domande abbiamo poi scelto fra queste domande quelle che ci sembravano più significative e interessanti insomma anche da 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 proporti ecco buongiorno io sono mattia e come era il suo rapporto con borsellino come si viveva con lui in famiglia e quando stava con lui c'era bisogno della scorta allora cominciamo con una tra le domande più difficili perché parlare della vita privata con mio zio è per me ancora nonostante siano passati quasi 30 anni difficilissimo io e paolo avevamo un ottimo rapporto lui era mio zio ma in un certo senso era anche come un padre perché mia mamma era la sorella più grande è rimasta vedova molto giovane e paolo si è un po un po preso cura di noi eh come un padre eh quindi doppio dolore nel momento in cui è morto ehm la scorta si lui si muoveva sempre con la scorta nonostante riuscisse ogni tanto a tra virgolette scappare per ritagliarsi un po di tempo per se stesso ma soprattutto nell'ultimo periodo perché sapeva che il suo momento stava per arrivare e avrebbe voluto non non coinvolgere nessun altro ehm e quindi cercava di eh allontanarsi facendo un po da bersaglio eh come ben sappiamo non è andata così perché insieme a lui sono morte anche altre cinque persone buongiorno io sono Sharon e la nostra seconda domanda è come ha reagito alla strage di vita meglio che conseguenza ha avuto sulla sua vita? Allora ehm quando nel 1992 io avevo 18 anni eh come vi ho detto Paolo era un po il padre per me per i miei fratelli eh però io avevo perso il mio vero padre che avevo otto anni quindi un po per rendermi meno pesante questo gravissimo lutto ero la coccolata della famiglia eh sono cresciuta in maniera anche un po superficiale quindi pensavo molto a divertirmi a un po ai fatti miei e non mi sono mai realmente interessata a ciò che facesse mio zio tanto che il 19 luglio il giorno della strage io rimasi doppiamente sconvolta perché innanzitutto avevano ucciso mio zio ma soprattutto non riuscivo a capirne il motivo perché io avevo ignorato fino a quel momento quello che realmente faceva mio zio per me era soltanto lo zio Paolo io ci ho messo tanti anni eh non a riprendermi perché non ci si può mai riprendere del tutto eh da una tragedia simile però ci ho messo tanti anni eh a capire che Paolo Borsellino non era soltanto mio zio ma era un grandissimo uomo che aveva fatto delle cose importantissime per la importantissime per la sua terra e diciamo che ho lavorato su me stessa per molto tempo fino alla conclusione che avrei dovuto anch'io fare qualcosa nel mio piccolo quindi dopo vent'anni eh che sono stati davvero lunghi in cui ho vissuto eh in maniera molto personale ed esclusiva quel lutto ritenendolo un lutto esclusivamente mio della mia famiglia e piano piano invece ho cominciato a fare un passo avanti e ho cominciato ad occuparmi di legalità ma per per prima cosa ho dovuto studiare ho dovuto capire chi fosse Paolo Borsellino e cosa avesse fatto cosa avesse fatto quindi è stato un percorso molto lento molto difficile che ancora oggi va avanti Lei ritiene che abbia fatto bene Borsellino a fare questo lavoro qua o avrebbe preferito ne avesse fatto uno un po' più o meno rischioso? Non avrebbe mai fatto niente di diverso rispetto a quello che ha fatto in realtà. Lui diceva sempre che si era trovato a fare questo tipo di lavoro per il semplice motivo che le persone gli morivano accanto. Lui ha cominciato a occuparsi di mafia per caso e da quel momento non ha più potuto smettere. La mafia era dappertutto, era impossibile non averci a che fare soprattutto per chi come lui aveva un senso dello stato così forte e così pressante. Non sarebbe riuscito a fare altro, sicuramente certo avrei voluto, vorrei che oggi fosse qui magari da pensionato a godersi i suoi nipoti ma non sarebbe stato Paolo Borsellino Cosa ne pensi della situazione che sta dietro all'agenda rossa? Ci sono novità? La situazione dell'agenda rossa è una situazione in movimento Prima di essere casa di Paolo noi siamo il movimento delle agende rosse. Per noi l'agenda rossa è un simbolo, suppongo che voi ne abbiate parlato per farmi questa domanda, è il simbolo di quella verità mancata, molto difficile da raggiungere perché è una verità che ci deve arrivare dallo stato. Noi riteniamo che l'agenda rossa sia sparita dalla via d'Amelio perché conteneva al suo interno dei nomi importanti, nomi di persone che in quel 92 stavano collaborando tra di loro. Il problema è che non erano soltanto mafiosi ma c'erano tra di loro, quindi da una parte la mafia ma da una parte c'erano persone che avrebbero dovuto far parte dell'altro lato. L'agenda rossa sparisce perché è un importantissimo strumento di ricatto. Chiunque l'ha presa in quel momento in mano aveva appunto il potere del ricatto. Ad oggi se non compare ancora sulla scena l'agenda rossa è semplicemente perché alcune delle persone i cui nomi sono scritti probabilmente su quell'agenda rossa sono ancora in vita. Nel momento in cui non saranno più in vita e quindi non sarà più possibile ricattarle probabilmente potrebbe anche venire fuori l'agenda rossa. Io per tanti anni ho pensato che l'avessero distrutta subito dopo averla sottratta dalla via d'Amelio. Poi Salvatore mi ha fatto ragionare su questo e no, è ancora un importante strumento di ricatto. Quindi probabilmente in qualche cassetto conservato e probabilmente in qualche cassetto di qualche tribunale italiano. Dato che la mafia è pericolosa e non sono pochi i casi dove le persone vengono minacciate e non in forma diretta ma anche attraverso i loro parenti, come essere la nipote di Borsellino? Aveva e ha paura di essere rapita per scatto o addirittura essere uccisa? E come si combatte l'omertà? Allora, paura no, direi proprio di no. Non abbiamo mai qui alla casa di Paolo ricevuto nessun tipo di minaccia o di nessun genere. Il fatto che la casa di Paolo sorga nel quartiere in cui è nato Paolo, quindi noi siamo, io sono alla casa di Paolo in questo momento, nei locali in cui c'è stata la farmacia dei miei nonni. Mie nonni erano delle persone molto conosciute nel quartiere, ritenute delle persone per bene perché aiutavano molto gli abitanti del quartiere in difficoltà, soprattutto parliamo del periodo della seconda guerra mondiale. Le persone che allora hanno conosciuto i miei nonni e che ancora oggi sono in vita ricordano queste persone per bene e sono molto felici del nostro ritorno in questo quartiere e quindi ci tutelano in qualche misura. Figuratevi che non fanno altro che dire tu puoi lasciare anche i portoni aperti, qui non toccherà mai niente nessuno perché hanno questo senso di gratitudine. Perché nonostante Paolo Borsellino fosse, come si dice da noi, lo sbirro, tutto sommato era una persona, ritenuto una persona per bene. Questo me lo hanno detto proprio le persone di questo quartiere perché mi hanno detto che la grandezza di Paolo Borsellino sta nel fatto che lui sapesse, a differenza di Falcone, che magari poteva sperare di non dover morire. Di non dover morire Paolo Borsellino aveva la certezza di dover morire. Nonostante questo è rimasto al suo posto a fare il suo lavoro. Questo lo ha reso grande, agli occhi anche delle persone che magari non hanno una grande cultura o grande preparazione. Io non ho assolutamente di questa paura, non ho nessun diritto ad avere paura dopo che non aveva paura a mio zio. Io so soltanto che ho visto Paolo con i miei occhi e l'ho sentito dire queste parole, l'ho sentito con le mie orecchie. In un giorno che va dal 23 maggio del 92 al 19 luglio del 92, ora io esattamente non ricordo il giorno ma era all'interno di questi 57 giorni, Paolo ha detto affacciandosi alla finestra del salotto di casa di mia madre, ha detto a me mi faranno saltare in aria qui. Quindi lui sapeva esattamente che sarebbe morto, sicuramente non sapeva che sarebbe capitato il 19 luglio ma lo sapeva. Nonostante questo ha continuato ad andare avanti, ha continuato a fare il suo lavoro senza mai fermarsi. Quindi se Paolo Borsellino aveva questo coraggio e nonostante tutto ottimismo verso il futuro non posso permettermi io di non avere un minimo del suo coraggio. L'omertà è un concetto molto complicato da definire ed è altrettanto complicato combatterla, nel senso che è radicata nella mentalità soprattutto del Sud la convinzione che io non vedo e io non sono coinvolto. Questo è praticamente il terreno fertile su cui continua a svilupparsi enormemente la criminalità mafiosa. Noi invece dobbiamo comprendere che siamo responsabili anche quando non siamo noi le persone che direttamente compiono un'azione criminale. Anche il fatto di semplicemente venirne a conoscenza ma di non parlarne ci rende complici. Questo secondo me va insegnato ai bambini fin dalla più tenera età combattendo quel pregiudizio che soprattutto qui c'è nei confronti di tutto ciò che è istituzione, di tutto ciò che è autorità. Qui alla Casa di Paolo per esempio abbiamo capito che i bambini, ma perché gli viene trasmessa in famiglia quindi dagli adulti hanno un'enorme diffidenza nei confronti delle forze dell'ordine. Giustificabile direi, nel senso che molti di questi bambini conoscono il poliziotto, la figura del poliziotto, la figura del carabiniere come la persona che gli va in casa in piena notte a controllare che il padre o il fratello maggiore non sia uscito dagli arresti domiciliari o che vanno a arrestare il padre o il fratello e lo portano via in manette. Quindi per loro la figura del poliziotto e del carabiniere in questo caso è una figura estremamente negativa. Noi dobbiamo cercare di far capire loro che il problema non è il poliziotto o il carabiniere che vanno in casa loro ma è il padre o il fratello chissà che cosa hanno combinato. Abbiamo cercato degli stratagemi per poter far avvicinare i nostri bambini a queste figure. Abbiamo pensato di fargliele conoscere in borghese, farle avvicinare alla Casa di Paolo, far vedere che sono delle brave persone, fargliele apprezzare in un secondo momento, farli venire qualche volta in divisa magari. Così loro capiranno che non necessariamente chi fa il poliziotto è una persona cattiva e soprattutto ci si può fidare di loro. È un lavoro complicato e lungo. Ci potrebbe indicare con esattezza in quali ambiti è coinvolta la mafia, anche al nord, anche quelli meno conosciuti? Oggi è sicuramente più complicato di prima capire e comprendere qual è l'ambito in cui opera la mafia. Questo perché la mafia segue il denaro. Ciò che bisognerebbe capire soprattutto è quali sono i rapporti con tutto ciò che invece è attività lecita, all'interno della quale la mafia oggi riesce a muoversi. Ritorniamo sempre al problema fondamentale della commissione tra mafia e non mafia, tra lecito ed illecito. Sicuramente la mafia oggi segue il mercato della droga, segue gli appalti delle costruzioni, segue anche il turismo. Sono tantissimi gli ambiti in cui si muove, ma soprattutto segue la politica. Tanto spesso si sente parlare di vicinanze tra uomini della mafia e uomini della politica. Ad oggi c'è una grande realtà criminale, molto più presente rispetto alla mafia che l'andrangheta, che ha potere non soltanto in tutta l'Italia, ma anche a livello europeo e mondiale. Ripeto, l'importante è capire e comprendere che la mafia oggi è più difficile da riconoscere rispetto a prima, perché prima era facilmente identificabile anche nel linguaggio, nella mentalità un po' di tutti, coppola e lupara. Oggi la mafia si veste elegante, ha la cravatta, la giacca, ricopre ruoli di potere ed è più difficile da essere riconosciuta. Questo però non deve fare credere che la mafia sia stata sconfitta, semplicemente perché non la riusciamo più a riconoscere. Siamo noi che dobbiamo farci più attenti e cercare di capire dove è l'illecito. Come è organizzato e quante persone ci sono circa in un clan mafioso? Allora, la struttura della mafia è una struttura gerarchica, piramidale. Noi la conosciamo grazie alle testimonianze che loro furono di Buscetta, che ci fece un po' conoscere la struttura interna della mafia. In linea di massima abbiamo la cupola in cima, per intenderci presiedute dal famoso capo dei capi. Poi ci sono i mandamenti, ogni mandamento ha un capo mandamento. Poi ci sono le famiglie, sono dei raggruppamenti di tre famiglie. Poi ci sono le singole famiglie, alla fine l'ultimo anello della catena sono i soldati, quelli che noi chiamiamo i picciotti, sono quelli che svolgono la bassa manovalanza e sono quelli che noi spesso vediamo, in cui noi spesso riconosciamo i bambini che frequentano questo quartiere. Quindi quello che cerchiamo di fare è proprio questo, evitare che i bambini vengano risucchiati da questo vortice, perché è molto semplice entrarci dentro. Scene che vediamo spessissimo sono quelle dei ragazzini che fanno i corrieri, i piccoli spacciatori che semplicemente ti portano il fumo da un punto all'altro del quartiere. Cose che loro possono sembrare insignificanti ma che sono l'inizio di quel graduale arrivare poi a commettere reati sempre più gravi. Noi cerchiamo proprio di intervenire in quel momento quando loro pensano che sia normale fare determinate cose, noi invece gliele presentiamo sotto sotto un'altra ottica. Come numero non saprei dirtelo quanti sono, poi si cambia da famiglia a famiglia, da quartiere a quartiere. Questo quartiere per fortuna che il quartiere della Calza di Palermo, il quartiere dove è nato Paolo Borsellino, dove è nato Giovanni Falcone, loro hanno giocato per queste strade, per fortuna non ha un altissimo tasso di criminalità al giorno d'oggi, ma a Palermo ce ne sono tanti altri quartieri molto combinati decisamente peggio. C'è per esempio il quartiere Brancaccio che è il quartiere dove è morto Padre Pino Puglisi che è un quartiere ad altissima densità mafiosa e lì i picciotti sono davvero tanti. Questa è l'ultima domanda e ci teniamo anche a ringraziarla per il suo intervento e per la sua disponibilità. Cosa possiamo fare noi giovani per contrastare la mafia e aiutare lo Stato? Cosa possiamo fare noi? Semplicemente il proprio dovere, ciascuno deve fare il proprio dovere nel proprio ambito di competenza, i studenti devono impegnarsi nello studio, i magistrati nel loro lavoro, non è necessario che tutti diventiamo magistrati per sconfiggere la mafia e per aiutare lo Stato, semplicemente bisogna fare il proprio dovere. Io l'ho detto, Paolo Borsellino non si occupava di mafia, è finito con l'occuparsi di mafia perché le persone gli morivano attorno. Non serve diventare degli eroi per sconfiggere la mafia, Paolo Borsellino non era un eroe, io odio sentirlo chiamare eroe perché quando noi chiamiamo eroe una persona come Paolo Borsellino o Giovanni Falcone, finiamo con l'attribuirgli dei superpoteri, superpoteri che non aveva né lui né Giovanni Falcone, erano semplicemente delle persone che hanno fatto il loro dovere, che hanno creduto nel valore dello Stato, hanno creduto nella necessità di fare ciò che stavano facendo, svolgendolo fino all'ultimo giorno della propria vita. È un'altra cosa, dobbiamo farlo il nostro dovere, dobbiamo farlo con ottimismo, dobbiamo credere che le cose cambieranno. Io ho un insegnamento che è un po' la mia linea guida, l'ultimo giorno della sua vita Paolo Borsellino, parliamo del 19 luglio del 1992, ha scritto una lettera, l'ha scritta proprio degli studenti, scrive questa lettera a una professoressa che in risposta a quella di una professoressa che un po' lo rimproverava perché aveva trascurato un invito che i suoi alunni gli avevano fatto, eppure questa professoressa decide comunque di girare a Paolo Borsellino le domande che gli avrebbero fatto i suoi studenti. Paolo Borsellino la mattina del 19 luglio risponde a questa lettera. Molte delle cose che scrive in questa lettera sono un po' il suo testamento, il suo messaggio più importante. Soprattutto lui in questa lettera scrive, e sono ottimista perché vedo nei giovani di oggi una consapevolezza maggiore nei confronti del fenomeno mafioso rispetto alla trascuratezza che ho avuto io fino ai 40 anni. Ora, vi ho detto già che Paolo Borsellino sapeva di dover morire, magari non immaginava che sarebbe morto proprio quel pomeriggio, ma lo sapeva. Eppure quella mattina del 19 luglio del 1992 lui scrive di essere ottimista. E se lo scrive lo era. Il ricordo più bello che ho di Paolo Borsellino il suo sorriso, la sua solarità, il suo ottimismo. E se Paolo Borsellino quel giorno il cui pomeriggio è stato assassinato dice di essere ottimista, lo scrive e lo era ottimista, non abbiamo nessun diritto di non esserlo altrettanto noi. Solo in questo modo riusciremo ad avere un mondo migliore. Mi permetto di salutarla anch'io, sono la dirigente dell'istituto e davvero credo che ci abbia fatto un grandissimo regalo. Grazie a voi, grazie a voi davvero. Io proprio colgo quest'ultima battuta, l'ottimismo di un uomo, ha ragione forse a non chiamarlo eroe, però un uomo certamente grande che con l'impegno ha dimostrato il suo credo, le cose nelle quali vale la pena di vivere e morire probabilmente con questa consapevolezza altissima. io credo che davvero sia in questo modo che anche noi, giustamente voi avete chiesto cosa possiamo fare, voi avete già fatto un passo in questa direzione, nella direzione intanto della maggiore consapevolezza di cui parlava anche Roberta Gattani. È importante essere consapevoli, la mafia non è solo quello che siamo soliti immaginare con stereotipi di antica data. Proprio qui la Guardia di Finanza, quando ci potevamo incontrare l'anno scorso, ci ha dato uno spaccato di come il grande Trentino, che noi riteniamo essere anche ancorato a valori profondi, sia di fatto terra di infiltrazione mafiosa. Allora guardate, adesso senza volerci anche caricare di responsabilità più del dovuto, però anche ciascuno di noi e ciascuno di voi nel proprio modo di operare può fare la differenza e quindi veramente prendiamo, io ringrazio tantissimo le vostre docenti, la professore Sanzalone per prima, ma insomma tutto il consiglio di classe che vi ha dato questa ottima, bellissima io credo opportunità di approfondire temi, crescere nella legalità vuol dire proprio innanzitutto acquisire consapevolezza rispetto a quelli che sono fenomeni che magari non sempre ci sono del tutto chiari, ma poi la legalità la si fa davvero costruendo con ottimismo e impegno giornalmente il nostro vivere quotidiano. E quindi ringrazio il vostro lavoro, le vostre docenti e la signora Gattani che se poi ci si aprirà e si potrà viaggiare, andremo a trovare. Mi aspetto. Grazie di venire qui nel nostro istituto, grazie davvero per il lavoro che fate, credo che sia un segno davvero importante e che dà ottimismo e voglia di esserci e di continuare a tante persone. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie alle insegnanti per aver organizzato tutto questo lavoro. Sono veramente felice che in un posto così lontano dalla Sicilia si parli di argomenti che sembrano ancora purtroppo al giorno d'oggi ancora così limitati al nostra terra perché purtroppo non è così. Grazie a tutti. dico che insomma il risultato in modi svariati c'è stato. Ecco in ogni caso l'augurio che mi sento di fare proprio a voi come famiglia Borsellini è che possiate avere la verità. Grazie. Che purtroppo ancora oggi insomma non... Il lavoro che fate ci sostenete in questo perché bisogna parlarne, dopo tanti anni bisogna ancora parlarne finché non arriva quella verità. Grazie mille. 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 Trazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.